Dopo la tribuna elettorale su Rete 8, i quattro candidati a sindaco di Pescara sono usciti dal piccolo schermo e tornati nella città reale. Anche oggi a Pescara si sosseguono gli appuntamenti elettorali in vista dell'8 e 9 giugno. Carlo Masci, centrotestra, ieri ha voluto cominciare la sua campagna elettorale da Via Tavo, nella zona del ferro di cavallo abbattuto. In platea e poi sul finale, anche sul palco, tutti i candidati delle sei liste che sostengono la sua candidatura. L'ex fortino della droga, simbolo della criminalità di Pescara, oggi rappresenta un esempio di cambiamento radicale ottenuto grazie al nostro impegno condiviso, ha detto Masci. Carlo Costantini, candidato sindaco del centro-sinistra con le sue cinque liste, si ritrova oggi con i cittadini al mercato coperto di Porta Nuova, di seguito alla nave di Cascella, per la presentazione delle candidature dei giovani democratici di Pescara e Montesilvano. Domani biciclettata sulla strada Parco con il candidato di Montesilvano da Dazio, nei pressi di quel confine che verrà meno dopo il 2027. In piazza Salotto, Domenico Pettinari, candidato coalizione civica, presentato i 64 candidati, gli ha ribadito di essere una forza a parte, lontano dai partiti, una città nuova, vivibile e soprattutto dedicata all'ascolto dei cittadini, cosa che finora non è stata fatta, ma sono stati tanti temi affrontati da Pettinari. Gianluca Fusilli, candidato per Stati Uniti d'Europa, sta effettuando un volatinaggio in centro, stavolta concentrandosi sulle prossime elezioni europee e informando i cittadini. Intanto fa sapere il 20 arriva in città. Matteo Renzi. La consigliatura di Pescara durerà tre anni per far posto alla nuova realtà con la fusione con Montesilvano e Spoltore e a Pescara è previsto l'eventuale turno di balottaggio, 103.000 gli eventi diritto al voto.